buonasera buonasera a tutti amici bentornati ben ritrovati oggi siamo qui sempre sono tornato è tornato purtroppo una maglia proposta mi dovrò lavare le mani perché lo tocca no sto scherzando eccolo lì 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 paratone di andanovic bastoni era andato al cinema era andato al cinema davvero bichitarian perde palla locatelli la conquista la vlaovic scambia con di maria che supera bastoni con una facilità imbarazzante tira per fortuna questa volta andanovic l'ha toccata meno male mamma mia ragazzi mamma mia che che schifo che bell'inizio da schifo da parte nostra è inzaghi così sembra cristo quando viene crocifisso ammonito brozovic bravo bravo brozovic bravo ti sei già fatto ammonire vuoi farti espellere dai raggiungi subito il tuo obiettivo no sei lì vicino dagli una testata fatti buttare fuori e lasciaci in 10 no mi sembra in idea vediamo non è fallo la tocca di petto prima no è la tocca di petto ragazzi parte il cross dentro fu d'ambrosio andato a staccare di testa palla fuori parte bastoni dentro di marco tira 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 mikhitarian palla fuori di un soffio porca di quella misera e calcio d'angolo no cross dentro per di marco calto un metro bello tiro curva madonna milic madonna che si è mangiato oddio 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 madonna non andaro vince o oddio ecco guardavo parita parita grande varietà e balla grande guarda vai la quadra non vai la balla o porca puttana poi dovevano segnare tutti dove gosens dove cazzo era ma dove cazzo era al cinema ma non è colpa di andanovi c'è colpa di gosens che è andato al cinema lì corre in mezzo sponda lukaku murat sei veramente sei veramente l'inutilità in persona l'inutilità qua chiedono un rigore vediamo rigore 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 per l'inter rigore rigore vediamo se rigore o no rigore all'ultimo minuto rigore 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 vediamo mano e mano fammi vedere e mano no no se non da sto rigore se non da sto rigore ti giuro io me ne vado rigore rigore e rigolo che c'è penalti il cazzo rigore non voglio che non andate a guardare perché ricordo romelu sei avvisato ti sto minacciando sono serio parte lukaku tiro gol 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 mira e zulta tambien parano sotto e zulta tambien parano sotto gol 1 a 1 godo come un mufflone godo all'ultimo minuto doveva succedere figura di merda evitata in zagi ma in zagi nelle coppie a un culo ma un culo to a protesta ciao bonucci ciao a un culo quest'uomo nelle coppe che se avesse avuto lui il burro che sta succedendo si risa rock i4 vogliamo la risa risa ora rubane stanno sacchi chi cazzo è spulso chi è cazzo è spulso che sta succedendo quello che guarda lì il quadrato vale smondata va tasse in tante la tasse in tante ma ricca non c'è la prossima tua questro panitano regala il partito devuelta stica ciao bello ciao ciao amico adios si sarà adios amico spierdo il padre si ora la chiamo ora la chiamo ciao amico perché chi cazzo è spulso dell'interno perché luca ma no perché è pur saluta chi cazzo è spulso non ho capito ragazzi chi è che ma sei un imbecille sei un imbecille un imbecille ma io non lo so ma io io non lo so io non lo so ma uno può essere così imbecille può essere così imbecille da farsi espellere dopo che fa gol ma io non lo so ma dai ragazzi dai se facciamo il 2 a 1 finisce 1 a 1 1 1 a 1 godo godo come un animale spiegate perché è stato è certo che salta il ritorno è stato espulso il pirla però dico hai fatto gol ti fai espellere ma dai penso pure vabbè sì grazie grazie a danovic espulso non ci sarà il ritorno grazie arbitro grazie bravo gekoce ma non ho capito cos'è successo me lo spiegate va bene comunque ragazzi ci sentiamo alla prossima un saluto sempre forza inter che spiazza per il rigore ciao ciao ciao